Continua la battaglia di chi si trova penalizzato, costretto a rimanere chiuso a causa della pandemia. Con l'intento di unire le forze e lanciare un allarme al governo è nata a Fano l'Associazione Nazionale di Bulling e Intrattenimento, un gruppo che riunisce decine di imprenditori del settore dislocati in tutta Italia per far sentire le voci di chi affronta ogni giorno le tante difficoltà e la crisi economica con aiuti inadeguati. Abbiamo bisogno in questo momento di far capire che siamo discriminati, queste sono grandi strutture che fanno tantissime attività, dall'attività sportiva all'attività con le scuole, compleanni, attività con i giovani, insomma il tempo libero, la socializzazione, siamo rimasti ormai l'unico baluardo nei tessuti sociali delle città e in questo momento siamo stati chiusi per tanto tempo come i cinema, i teatri, le discoteche, ma invece siamo considerati nei conti economici dei ristori come ristoranti, questo è il nostro problema più grave, la nostra emergenza più grave da risolvere subito. I contributi, spiega Marco Ragaini, non sono sufficienti a coprire costi delle strutture che vanno dai 2.000 ai 5.000 metri quadrati solo al coperto. Quindi con grandi costi e siamo stati chiusi nel nostro periodo migliore perché abbiamo potuto riaprire qualche mese da luglio fino a metà ottobre, poi parzialmente con tutti i protocolli, con tutte le spese per mettere i locali a norma e poi abbiamo dovuto subito richiudere quando dovevamo iniziare a lavorare. Ci hanno detto che ci avrebbero fatto riaprire per Natale, invece già abbiamo capito che non abbiamo nessuna certezza di poter riaprire, né a Natale, né a gennaio, forse febbraio, addirittura abbiamo la paura, il terrore di dover arrivare all'inverno del 2021 e questo vorrebbe dire per molti di non riuscire a raggiungere degli accordi con i proprietari e di dover smontare. Le spese fisse preoccupano gli imprenditori e in Italia sono circa 250 i titolari di sale bullying, ma l'Ambi sta coinvolgendo e raccogliendo anche il grido di dolore dei colleghi che gestiscono sale ludiche, ricreative e centri di divertimento per le famiglie. Le spese delle utenze, ma soprattutto i contratti d'affitto quando non ci sono i locali in proprietà, se non si raggiunge un accordo, c'è questa possibilità di scalarli dalle tasse del prossimo anno, ma bisogna arrivare al prossimo anno, ma molti imprenditori hanno paura di non poter arrivare all'inverno prossimo e di dover smontare i loro locali e rimanere senza lavoro. Quindi questo è uno stato emergenziale, è uno stato che va risolto, almeno abbiamo diritto allo stesso trattamento che hanno quelli che fanno sempre nel tempo libero lavori molto simili ai nostri come il cinema, i teatri, le discoteche, perché hanno anche loro strutture grandi come le nostre e loro prendono esattamente il doppio dei ristori di quello che prendiamo noi. Noi abbiamo pagato per tutto il 2020, la tassazione non ci è stato tolto nulla, è stato solo rinviato qualche cosa e quando abbiamo potuto solo lavorare 4-5 mesi, e poi 2-3 di questi mesi limitati molto con varie parti che non potevamo utilizzare, varie situazioni che non potevamo utilizzare.